Purtroppo ci sono 15 chilometri di rifiuti tossici sotto quell'autostrada. Addirittura si corre il rischio di dover riaprire tutta l'autostrada per cambiare il manto. Tant'è l'inquinamento che è stato fatto, pare, in maniera illegittima e quindi criminale da parte di alcuni soggetti. Sono stati fatti dei rilevamenti, dei carotaggi e purtroppo è emerso che c'è questo cromo esavalente, questo veleno pericolosissimo per tutti i cittadini che rischia di andare nel terreno e nelle falde. Beh, prima di tutto bisogna capire quanto ce n'è. Purtroppo non si riesce ancora a capire quanto di questo veleno sia stato nascosto sotto questa autostrada. Noi chiediamo chiarezza e soprattutto che vengano fuori i responsabili. La procura si sta muovendo bene, in maniera celere e certa. Certo che purtroppo i tempi della prescrizione sono sempre molto corti e questo a noi non va bene. Grazie al Movimento 5 Stelle e al nuovo reato ambientale che abbiamo fatto introdurre, oggi queste persone prenderebbero 15 anni di galera contro i 5 che purtroppo vanno a rischio di prendere oggi. Ma la questione è molto semplice. Nel momento in cui c'è grande bisogno di denaro pubblico, non ci sono risorse per fare nulla, assistiamo a miliardi di euro che avevano buttati dalla finestra. È stata rinnovata la concessione dell'autostrada Padova-Brescia. Il concessionario vende agli spagnoli in tasca 1 miliardo e 200 milioni di euro. Noi ci chiediamo ma perché non è stata fatta indetta una gara pubblica? In quel modo 1 miliardo e 200 milioni sarebbero andate nelle tasche dello Stato. Vorremmo che la Corte dei Conti e soprattutto l'Autorità Nazionale Anticorruzione ci dicesse se questo va bene. Grazie.